È un momento veramente duro e mi dispiace per questo popolo perché ogni domenica ci sta vicino sia in casa che in trasferta, quindi i primi a soffrire, ma credetemi a soffrire tanto siamo noi e io in primis soffro perché se noi guardiamo la rosa di questa squadra non credo che non sia una rosa all'altezza di disputare un campionato di Serie C. Non è che dici non ti alleni, non lavori in settimana, non stai sul pezzo, non cerchi di fare di tutto. I ragazzi fanno di tutto, noi facciamo di tutto, evidentemente non basta, bisogna fare ancora di più. Per fare ancora qualcosa di più bisogna lavorare ancora di più. Mi aspetto una grossa reazione. Una grossa reazione perché potrebbe essere veramente il momento di svoltare, di svoltare anche perché per dare una gioia anche ai tifosi perché un derby è sempre un derby, va giocato fino alla morte. Però anche oggi ragazzi a livello di impegno, c'è gente che dentro lo spogliatoio sta piangendo, sta piangendo perché comunque sono i primi a stare male, siamo noi i primi a capire, a cercare di farci domande per capire perché siamo in questo momento. E ripeto, dobbiamo stare uniti, compatti, è giusto che l'ambiente sia arrabbiato, anzi ripeto, primo responsabile sono io e sono qua a metterci la faccia perché comunque è giusto che io ci metta la faccia.